Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi mangerò pasta con panna e salmone un piatto molto molto buono e veloce da preparare anche se da dire che è abbastanza calorico adesso inizio, vedo l'ora di assaggiarli un po' di assaggiarli Grazie a tutti. 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 Buonissima. Pane e salmone. È una coppiata veramente vincente. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Al prossimo video. Grazie a tutti.